Great Movie Adventures, musica di John Williams, arraggiamento di Michael Swinney. John Williams, direttore d'orchestra e compositore statunitense, apprezzato per le numerose colonne sonore cinematografiche. La produzione dell'autore è sterminata e spazia dal cinema a produzioni per le Olimpiadi, alle sedie tv, alle sigle per trasmissioni tv, oltre a brani sinfonici e a concerti per strumento solista. Ha scritto quasi tutte le colonne sonore del film del regista Steven Spielberg. Questa sera vi faremo ascoltare Main Tem da Star Wars, cioè da Guerre Stellari, Cowboy da Tem from Jurassic Park e per concludere il Tem from 80, the Extraterrestrial, Great Movie Adventures. Applaus 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.